Il raddoppio della lidia ferroviaria Pescara-Roma per un importo di 6 miliardi contenuto nel PNRR fa discutere alcuni comuni, come per esempio quello di Manopello. Per il sindaco Giorgio De Luca è fondamentale spostare il tracciato ferroviario dal centro urbano all'interporto in quanto con l'attuazione di tale progetto verrebbero abbattute 60 tra palazzine, attività commerciali e agricole tra brecciarola e scafa. Non siamo contrari alla finalità, dice, ma al modo di attuare l'iniziativa. Intanto sabato ci sarà un incontro con i concittadini. Bene, c'è appena arrivato questo progetto in data 27 dicembre 2011, quindi in piena pandemia, sotto le feste natalisi e ci stiamo preoccupando tantissimo perché adesso analizzando sempre meglio il progetto la cosa ci sembra alquanto devastante per tutto il territorio, non solo Manopello ma soprattutto anche Brecciarola all'anno e scafa. Che cosa consiste? Consiste questo raddoppio che ci sono 4 progetti alternativi fatti da RFI e Italferica, una società delle ferrovie dello Stato, che hanno avuto questo incarico. Purtroppo questo progetto prevede il raddoppio con la demolizione di circa 60 fabbricati. Se vedete qui dietro ci sono i primi tre, è qualcosa di veramente pazzesco. Noi non è che siamo contro questo raddoppio, perché questo raddoppio si parla da tantissimi anni, ma siccome abbiamo l'alternativa che è quella dell'interporto, ribadiamo fortemente che la ferrovia venga spostata sull'interporto. È un progetto che ha un costo di 6 miliardi e 600 milioni, è previsto nel Piano Nazionale di Residenza e Resistenza, quindi significa che questo va fatto in tempi brevissimi. È un raddoppio che l'Abruzzo si aspetta tutto sommato, perché vogliono accorciare i tempi di percorso tra Roma e Pescara. Attualmente i tempi sono stimati in 3 ore e 30, si vuole raggiungere almeno 2 ore e 20. Però di fronte a questa sciagura ambientale, territoriale, recuperare un'ora, quanto ci sono anche mezzi alternativi, tipo l'autobus che raggiunge Roma in 2 ore e 50, non vedo questo grosso beneficio. E poi se si vuole potenziare, raggiungere, potremmo prendere anche in evidenza l'aeroporto di Pescara. Farete un'assemblea pubblica? Faremo un'assemblea dove andremo a spiegare alla cittadinanza quello che sta accadendo, perché è bene che i cittadini sappiano cosa si vuole fare e anche questo modo di gestire questi progetti così importanti senza avvisare l'amministrazione non ci piace affatto. I tempi poi sono rapidi? Sì, perché il PNR prevede appunto la realizzazione di questo intervento entro il 2026, quindi entro 5 anni, fare un'opera così importante con soprattutto anche una crisi di manodopera, di imprese, di progettisti, perché sono tutti impegnati, quindi fare le cose con tutta questa fretta rischieremo di fare un'opera alquanto discutibile, soprattutto con delle finalità non poi azzeccate. quindi facciamo le cose con calma, adesso abbiamo i soldi, spendiamo il bene.